Ok, siamo appena entrati al Burning Man Attualmente sono da solo perché gli artisti stavano a fare un giro della Madonna Per trovare i biglietti E qui c'è il rito di iniziazione Se sei vergine come me, suoni la campana Se no, ti butti dentro la sabbia e nuoti E mo' vediamo che ci aspetta E' stato le 11, fa un caldo relativamente tranquillo Per ora, tocca ancora la monta tende, tutto Per trovare il posto 50.000 persone Se vede niente sicuramente ne va a che crema e ravi Però, c'è stanno Stanno arrivando E quindi, oh, un Burning Man a tutti